Sono sempre stato a finale, sino a 30 anni poi ho cambiato residenza per motivi matrimoniali. Nonostante sono sempre stato a finale per il mio lavoro che è quello in Piaggio. La Piaggio mi ha aperto le porte il 1 luglio del 1971, sono arrivato lì dopo alcuni colloqui, tra i quali quelli fatti col personale e poi con il dirigente dell'ufficio tecnico commerciale, il quale pensò che andava bene per il suo settore. Come sapete è un paese turistico, ma allora aveva sempre come punto di riferimento per tutta la cittadinanza quel grosso capannone che era all'estremità di finale di Ponente, dove il 60% degli uomini finalesi andavano a lavorare. Personalmente io avevo già andato mio fratello per primo, che è maggiore di 9 anni, quindi ha fatto una carriera, è entrato prima per motivi di età. Io ho seguito un corso di studi fino a raggiungere al diploma, sono perito meccanico e dopo di che ho fatto una serie di domande attorno, ho avuto dei colloqui, ma poi l'ultimo che è stato quello decisivo è stato quello in Piaggio, perché avendolo a casa e vedendo sempre quello stabilimento in quel luogo e da sempre e poi sapevo che mio fratello ci stava Benone e ho deciso di andare in quello stabilimento. fece i soliti colloqui e poi fui assunto nell'ufficio tecnico commerciale, la sezione tecnico commerciale di quell'ufficio che si occupava di prezzi, di preventivi e di fornitura di parti di ricambio, nonché dall'amministrazione per consegnare tutte queste parti di ricambio e ai privati, che allora c'erano dei clienti privati molto importanti e sia che all'amministrazione dello Stato che era il nostro massimo cliente. Il mio primo impatto con l'ufficio fu un po' strano, perché io avevo avuto solo un'altra esperienza lavorativa più giovanile, sono stato parecchi anni in ufficio viaggi, quindi giovani, si parlava, era una cosa molto giovanile. Entrare in Piaggio, specialmente in quel settore, il primo giorno fu non un trauma, ma una sorpresa, perché era uno stabilimento vecchio, se si pensa che all'interno tutti gli uffici erano in legno e legno che era ricavato e messo a posto dalle maestranze della Piaggio stessa, perché la grossa officina Falegnamaria, che poi è stata abolita in certo qual modo, che costruiva gli aerei ancora in legno e poi faceva i prototipi, questo sarà un altro discorso da dire, aveva costruito anche tutto l'arredamento per lo stabilimento, quindi tu entravi dentro, era tutto scuro, tutto opaco, tutto in legno, ma magari era un legno pregiato, non ne so dire la qualità, ma i tavoli tipici, quelli che adesso noi abbiamo in cucina, c'è quattro gambe, due cassetti piuttosto alti, seggie di legno non tanto comode e sopra c'era una plastica verde, proprio per aiutare, non c'era niente come macchine o come calcolatrici, solo le macchine da scrivere delle segretarie, vecchie Olivetti 84, voglio dire questa che è importantissima, credo, perché la mia macchina calcolatrice, perché io devo fare dei conti, era una vecchia divissum dell'Olivetti, una macchina stranissima che non l'ho mai più vista, che funzionava, era anche ridicola, non funzionava, era elettrica, però quando schiacciava e faceva la moltiplicazione c'era delle astine che andavano avanti e indietro e sembrava che bollissero in un certo qual modo, funzionava, però era una cosa stranissima. Comunque il capo ufficio, me lo ricordo sempre, che era un signore che si chiamava Borgognone, era una persona molto con gamba, e mi consegnò il kit dell'impiegato, questo credo che sia interessante a dire, era un portacose, perché c'era un righello, una matita, una gomma, un temperino e una penna biro, rigidamente faremo un po' di bic di quelle di ultima cosa, basta! E quello era il tuo kit? Ah, dimenticavo la forbice, la forbice era importante per tagliare i pezzi e fare l'incolaggio, quello lì ti dava quello, ti sedevi al tavolo e quel primo giorno mi disse questo tuo collega di giovani ce n'era solamente due, gli altri erano piuttosto anziani, tu ti occuperai in questo momento del P166S, P166S voleva dire Sudafrica, era una fornitura grossa che è stata di 11 più 9 velivoli che è stata data a Sudafrica e c'era già la serie che era abbastanza avanti, anzi la prima serie era quasi terminata, poi subito dopo iniziò la seconda, io curai la fornitura delle parti ricambio per tutti questi velivoli, facevo i preventivi e ricavavo i prezzi andando a prendere i disegni, facendo il calcolo del peso dei materiali e poi mi comunicavano, l'ufficio ha dato la manodopera occorrente, mettevo insieme le cose e facevo il prezzo che poi proponevo al cliente, la linea era questa, per due anni ho fatto questo, ma c'era tanto lavoro perché 11 velivoli che poi sono stati 20 della seconda serie, comportavano un'assistenza abbastanza importante con tante parti di ricambio e per due anni ho fatto solamente quello, poi ho preso anche la parte motoristica, allora c'era un motore a pistone, il GSO che è stato, che veniva fatto in piaggio, un motore a pistone, sei pistoni contrapposti, era molto bello da vedersi e praticamente facevo sia la parte velivolistica di fornitura che è la parte meccanica del motore e dell'enica, che è un'elica di progetto Piaggio, mi ricordo ancora la sigla, P1033 si chiamava, pensi un po'. Oltre al kit che mi hanno fornito come del perfetto impiegato, mi hanno messo di fronte due libroni, uno era il catalogo nomenclatore del velivolo B166 che era un librone alto 10 centimetri e l'altro era il catalogo di manutenzione del velivolo stesso, l'insieme di queste due cose era il mio clic, dovevo prendere dalle parti fornibili sulla macchina che erano enunciate sul catalogo e dovevo vedere se andavano bene con la manutenzione, che era l'altro catalogo e poi tiravo fuori il disegno, mi facevo il prezzo e andavo avanti. Mi seguiva un collega per i primi tre mesi, ma dato che non per darmi delle arie, ma sono uno piuttosto sveglio e poi il lavoro mi piaceva subito, mi piaceva il disegno, il disegnere un autico, mi piaceva l'essere lì, masticavo un po' d'inglese, capivo velocemente perché i cataloghi erano in inglese, capivo un attimo quelle cose, le parti tecniche e direi che in sei mesi sono riuscito a comprendere cosa facevo e con chi dovevo lavorare. Bisogna fare una scissione, il catalogo enuncia le varie parti del velivolo, della macchina e soprattutto fa l'elenco delle parti che sono fornibili e sciolte, ossia che si possono cambiare direttamente sulla macchina, senza fare danni. Inoltre ci sono tre possibilità, c'è il primo grado, il secondo grado e il terzo grado, in realtà si chiama diversamente, ma quei gradi si capisce meglio. Quelle di primo grado sono quelle che si possono montare direttamente su un campo e sono enunciate sul catalogo, non un nomenclatore. Quelle di secondo grado invece sono solamente descritte, ma c'è scritto non fornibili, devono essere fatte in fase di prima revisione dei velivoli, perché i velivoli hanno una storia a parte che è molto lunga, di prima revisione e poi c'è la terza parte che invece va sulla revisione generale. Il catalogo fa l'elenco di tutte queste parti, distinguendole uno dall'altra, che hanno poi la conferma sul catalogo di revisione del velivolo e di manutenzione. Quello determina le parti che si possono scambiare direttamente in fase di fermo con quei tecnici o in fase di revisione generale dove si smonta tutta una macchina e si va a sostituire le parti. E tutte assieme o quante sono? Tutte assieme, io direi che sono oltre 50 mila. Senza considerare la parte elettrica, perché sui velivoli, specialmente adesso, ma anche allora c'è un apparecchio, c'è chilometri di cavi. Io dico chilometri, magari sono troppi, ma ci sono, ci sono chilometri di cavi perché ogni comando è correlato da servizi di controllo, di allertamento, quindi di sicurezza, di andata e ricordo e certe volte in dublice mandata. La macchina aereo è veramente un gioiello della meccanica e che solamente il passarci vicino ti fa… a me è piaciuto tantissimo, diciamo così, perché è qualcosa che è nettamente diverso, io conoscevo dai disegni, sono piaciuto meccanico, io conoscevo i disegni di macchine, di queste cose, ma l'aereo è un'altra cosa. E poi tu devi distinguere che sull'aereo c'è la parte fusoliera, la parte fatta di lamiera, che poi non è lamiera, ma sono tutte leghe leggere e la lamiera è in acciaio, e poi la parte motoristica che è considerata parte e quando ci sono le eliche, la parte delle eliche che ha un altro sistema ancora. Poi ci sono tutti i sistemi interni che devono essere messi a punto e correlati all'interno. Allora, voi pensate, adesso non facciamo passi da gigante, perché io ho visto la trasformazione del 166 che ha avuto delle trasformazioni importanti, perché dopo Sudafrica ha avuto delle innovazioni, ha cambiato il motore e abbiamo fornito, diciamo così, all'aeronautica, dico abbiamo, in realtà è la Piaggio che l'ha fornita, delle macchine con dei motori particolari, che erano l'LTP, che non so se ci sia ancora adesso in Piaggio, ma diciamo la verità era un po' un cattorcio quel motore, lì ci ha dato molte grane, e poi è stato ancora sostituito, credo, con il Praterhuitel, non lo so, poi sarà qualche collega che è giù nelle officine e da che io me ne sono andato quando c'era in mente questa cosa, me ne sono andato, sono andato in pensione. E tutto questo tramite, io ho avuto la fortuna di iniziare come velivolo, come velivolo che allora era in forza il PD808, che è un'altra cosa, P166, P166 ha trasformato, poi le cooperazioni che magari ne parliamo poi dopo, e poi il famoso e ottimo P180, del quale ho avuto il piacere di fare il prezzo del materiale, quindi l'ho analizzato dall'ala la zeta tutto pezzo per pezzo, qui siamo sui 70 mila pezzi. Per il P180, io e un collega, e una segretaria, abbiamo messo circa 3 anni a farlo, il prezzo, perché abbiamo esaminato circa 70 mila pezzi, li abbiamo inseriti sul computer, allora il computer c'era un sistema, non so se c'è ancora adesso, ma ci sarà senz'altro, c'era un sistema centralizzato che si chiamava CX, non so se lo conoscete, e noi avevamo i terminali in ufficio, e di lì inserivamo, avevamo un programma magnifico che ci permetteva, dalla nostra videata, ci permetteva di poter andare a pescare la mano d'opera dall'ufficio tecnico Ficcina, che è quello che faceva la mano d'opera, andare all'ufficio tecnico che disegnava, prendere il disegno, e poi andare anche al magazzino a prendere le parti finite, metterle insieme fare il prezzo che lo prendevamo dall'amministrazione, perché lei comprava i pezzi, comprava i materiali e aveva i prezzi di tutto il materiale, noi abbiamo tutto questo lavoro, questo lavoro lo abbiamo fatto, devo dire un'altra cosa che non ho detto prima, perché le cose sono tante, il primo grosso preziario, perché poi si chiamava preziario questo lavoro, è stato fatto sul PD, il PD 808 si chiamava, il PD è stato un aereo, ci saranno dei colleghi qui dopo che lo diranno che l'hanno vissuto in prima persona, credo, il PD io ho vinto solamente la fase finale, le trasformazioni, quando da, allora c'erano le varie versioni, 20 velivoli sono stati costruiti, 22, di cui uno solo, è stato l'unico velivolo che io sappia che uno è caduto, perché il velivolo di piaggio non è caduto mai, ossia per disgrazia, sono caduti sempre per un altro, per la stupidità del pilota e questo che invece anche, perché fece epoca, era un prototipo, che era stato venduto alla famiglia Zanussi, quella dell'Elettrono Domestia, lui lo adoperava per i viaggi suoi particolari e tornando dalla Spagna, insieme al pilote e altre due persone, il pilota, non so cosa ha fatto, invece di sorvolare i Pirinei ci ha dato una patta dentro ed è stato distrutto, ma ci sono morti tutti, questo era il primo, praticamente era uno dei primi velivoli che allora dicevano business, perché quello era il nome e che doveva in un certo qual modo andare a essere piazzato all'interno di tutti i capi aziende, delle aziende emergenti, questa disgrazia praticamente ci ha tagliato un po' le gambe, meno male che poi sono stati fatti i 20 velivoli e l'aeronautica militare li ha attrezzati per i suoi usi e consumi, è terminato credo nel 1998 l'ultimo che ha volato mi sembra di questi. Il mercato principale del P180 era in America e allora si fece il dollaro, a parte che il programma prevedeva la traslazione automatica nelle varie monete che c'erano allora, perché non c'era ancora l'Unione Europea, quindi io sempre ringrazio tutte le volte che incontro il programmatore che è un carissimo amico e che si chiama Quaglia di cognome, è un carissimo amico che era veramente un genio del programma CX perché aveva fatto un programma per noi eccezionale e noi abbiamo fatto delle offerte di vendita in rubli, l'abbiamo fatta in yen, l'abbiamo fatta in dollari, sembra che era la mondita corrente naturalmente in lire italiane. Il prezzo della macchina non la si può stabilire, il prezzo veniva fatto in questa maniera, a meno tra noi, il costo reale, quindi la quantità di materiale, che erano insieme di tanti pezzi e era intorno al milione di dollari. Poi c'era una parte mano d'opera che era variabile a secondo da dove andava, perché la mano d'opera, adesso qui sono problemi di legge, secondo gli stati hanno delle tasse o meno da aggregarci sopra, allora la cosa era variabile. Però il problema più importante era quello dell'avionica, sul 180 è stato sempre accaduto l'avione perché ha sempre avuto l'avionica che sarebbero tutti gli apparati elettronici impostati sulla macchina, hanno un prezzo esorbitante, perché lì meno di 50 mila euro, 50 mila dollari, non compri neanche un video, vabbè che lì sono tutti i video importanti. Però l'apparato dell'autopilota, che è uno degli apparati per il principale, costava i 250 mila dollari, e poi c'erano anche di quelli che chiedevano delle altre cose da applicarsi e aumentare. Quindi un prezzo finale definitivo, dire il P180 costa 5 milioni di dollari, faccio un'ipotesi, non era possibile farlo, perché ogni cliente voleva la sua personalizzazione, automaticamente c'era più o meno uno svantaggio. La quantificazione generica di tutto il velivolo P180, parliamo degli anni 90, di base era stata intorno ai 60, milioni di dollari, qui lo dico e qui lo nego, perché non avrei potuto neanche dirlo adesso, qui 6 milioni di dollari. E poi gli accessori erano quelli che andavano a incrementare esattamente, perché per esempio, una cosa sciocca però, si è fatto un P180 speciale, con un arredamento disegnato da penne in farina all'interno, che solamente l'arredamento costava 100 mila euro, quindi vede che la cosa suora. Non è la macchina che la fa, l'aereo è una cosa molto complicata. Il prezzo dell'aereo è senza i motori, perché poi bisogna considerare la parte motoristica, che lì è una bacchettata non da poco, due motori, sono montati i Prate Whitney sopra, una ditta da terriba, che costano, allora costavano, non lo so, sui 350 mila dollari l'uno. La prima è stata del 90, la prima è stata del 90 quando sono terminati tutti questi bei lavori e c'è stato un cambiamento anche nella direzione. Sino agli anni 90 c'era una direzione che i sindacati dicevano paternalisti, ossia c'era la famiglia Piaggio, la persona del Presidente, che era il Dottor Piaggio, con un consiglio di amministrazione e tutto quanto, però erano loro. Negli anni circa, adesso esattamente non me lo dica perché le questioni proprio, se si tratta di commercializzazione lo so, ma quelle proprio dell'organizzazione dell'organizzazione, non la so, però gli anni sono quelli lì. La prima crisi è stata del 91, del 89-90, quando sono finite le coproduzioni, si doveva iniziare alla grande con il P180. Il fatto è che questo momento è andato a coincidere con una certa crisi nell'industria astronautica mondiale. Questa crisi ha comportato che anche la Piaggio che era esposta, purtroppo, perché era in via di lancio, ha subito un po' le conseguenze. È cambiato l'assetto sul societario, sono entrate i trattori fin industria, cos'è? Mi manca anche a dirlo, però fin meccanica, praticamente l'azienda dello Stato, io la odio, scusate che lo dico, pertamente perché sono stati dei grossi pasticcioni, a mio avviso, poi ci sarà qualcuno che smentirà, e hanno fatto un caos tremendo con l'obbligo proprio, a mio avviso, di fare un po' di chiasso, un po' di mescolio di idee e di intenti. Tanto è vero che siamo andati in crisi. La prima crisi è stata, allora eravamo parecchi, eravamo sui 1500, quando è in questa crisi. C'è stato le prime lotte che abbiamo fatto, eccetera, eccetera, con degli scioperi, una cosa enorme, e c'è stata la prima riduzione, è stata una, diciamo così, una prima riduzione del personale, c'è stato fatto, parecchi sono finiti in cassa integrazione, tanti sono stati aiutati ad andare in pensione, e si è cominciato lo sfoltimento dalla Piaggio, sia qui che a Sestri. Personalmente del 91, quando mi hanno trasferito a Genova, mi hanno dato l'input di responsabile dell'ufficio commerciale di Genova, e allora sono andato a Genova e ho preso in mano tutto quanto la questione amministrativa, cioè commerciale, per le nuove commesse che arrivavano, che non tanto di tutto arrivavano. Ed è stato, erano quelle di 6 P180 per l'aeronautica militare, e che ci hanno dato l'ossigeno necessario per resistere in stand by qualche anno e poi riprendere ed andare avanti. Poi abbiamo costruito, è cominciato la cooperazione con l'America in diretta, il P180 è stato, diciamo così, allocato praticamente in America e ha vissuto la sua vita, noi siamo andati avanti di nuovo allegramente. Dieci anni dopo è successa la stessa cosa, negli anni 2000 c'è stato un fermo della produzione e noi ormai abbiamo finito tutti i grossi lavori che tutte le vecchie commesse, non c'era più niente praticamente da fare, se non il 180 è un nuovo progetto che non è mai andato avanti, non credo che sia ancora nei cassetti adesso, di un nuovo velivolo che però è lì fermo. Questo cosa ha comportato? Crisi che non potevano essere sopperite, sopperire l'ingranaggio della piaggio, anche se la parte motoristica, di cui non ho ancora parlato, che poi parleranno gli altri, penso che è troppo lunga la mia cosa, la parte motoristica sosteneva per il buon 55-60% la questione, perché funzionavano sempre le revisioni alla grande su motori che sono ancora in funzione adesso, che hanno fatto storia, sono stati costruiti, sono stati continuamente revisionati e quindi era la liquidità che arrivava regolarmente, permetteva di vivere bene per la piaggia. Si è visto veramente il crescere della ditta che è arrivato da ditta artigianale, si è fermato come ditta ditta, ossia una ditta che costruiva a livello mondiale. Questo successe nel 1974, due anni dopo che io ero entrato, perché ci fu una rivoluzione proprio interna, ossia cominciarono ad arrivare i computer, cominciarono ad arrivare le macchine elettriche e si cominciò veramente a vedere che si correva verso un qualcosa di importante. La cosa importante è stata la progettazione di una parte dell'MRCA 75, l'aereo Tornado, un caccia multiativo e multifunzionale in dotazione all'aeronautica tedesca, inglese ed italiana. Questo progetto che aveva previsto quasi mille velevoli e in un certo qual modo fece sì che tutte le industrie aeronautiche italiane, che erano tutte artigianali, tranne che la legna di Torino, che era l'ex Fiat, si siano organizzate con macchine e con procedure atte ad affrontare una produzione grossa. Inoltre fu fatto un contratto, a mio avviso, poi ho masticato tanti contratti, questo certamente è stato il migliore, forse perché era il primo e c'era tanta buona intenzione. Questo aereo era stato costruito dalle intelligenze italiane, tedesche ed inglesi, ma se avevano fatto un progetto, diciamo così, l'inventore non lo so, ma fu una tecnologia unita, idearono e pensarono a questa macchina stupenda che funziona ancora adesso e poi dissero, tu Inghilterra costruisci l'impenaggio, la parte dietro, quella dove c'è la coda, in Germania tu costruisci la frusoliera e te la progetti, la costruisci, cioè hai i disegni e adesso tu devi fare tutto per avere la scatola, devi costruire all'interno che è la parte più difficile. Per l'Italia, che dicono sempre l'Italia ma siamo un gamba, gli è stata affidata le ali, ossia le ali, le ali erano uno dei primi esempi di ali retrattili, perché il tornado parte ad ali spiegate, poi quando è in volo che è in azione le chiude e diventa una specie di raggio, ma costruire le ali pensando a questa cosa comporta un lavoro, una tecnologia immensa e noi italiani avevamo questo compito, perché molto probabilmente hanno detto che questi qua sono nesci, scusate il termine e non ce la fanno, invece siamo andati in fondo e a noi che siamo, noi della Piaggio, che eravamo una ditta artesanale ma ancora ben pensante, ci hanno affidato il bordo d'entrata dell'ala, il bordo d'entrata dell'ala è la parte, proprio faccio un segno, l'ala è questa, questa parte qui e soprattutto la parte che si incenerava sul velivolo per fare questa maniera, questo dice una stupidata, questo vuol dire uno studio eccezionale, che poi doveva andare d'accordo con tutti gli altri che costruivano le parti e le mettevano insieme, c'è stato un quadriennio in cui l'ufficio tecnico ha tirato fuori delle cose, delle soluzioni e ha stupito anche Alenia e le altre ditte, perché nella nostra manualità, perché c'era tanta manualità e tanto ingegno, abbiamo tirato fuori queste, io dico è stato un capolavoro, perché il blocco di aggancio tra fusoliera ala, è un pezzo unico che costa un capitale, 10 mila Euro, ce ne sarà ancora in giro, non lo so, si parte da un maloppo e poi con un programma molto sofisticato e una macchina comprata apposta per farlo, si è costruito e queste cose erano, adesso non mi ricordo esattamente, ma mi sembra che quando partiva era sui 30 kg e poi era ridotto a 8, tutto scavato e tutto fatto a microm, qui ci sarà qua qualcuno, un collega del Colauco che magari le dirà cosa vuol dire microm in meccanica, lei già non lo sapeva, è stato costruito perfettamente, noi abbiamo avuto anche degli incomi che nessuno solo credeva ce l'avremmo fatto, invece ce l'abbiamo fatto, abbiamo fatto mille bordi di entrate, destri e sinistri, di cui 100 diversi, perché l'Inghilterra lì voleva fatti diversi, simili ma ridotti, comunque abbiamo fatto questo progetto e questo è stato il primo progetto importante di cooperazione che ha permesso negli anni 70 alla Piaggio di partire, ne è seguito subito un altro che era il G222 che ha dato man bassa, nel frattempo si costruiva anche un'altra cosa che nessuno ne parla della Piaggio, ma dato che io conosco anche quella, si costruiva gli shelter, cosa sono gli shelter? Gli shelter sono dei, adesso li vediamo purtroppo con la sfortuna di Amatrice, sono quei, erano dei cassoni, perché la base era quella, erano dei cassoni prefabbricati in cui all'interno si poteva costruire di tutto, si poteva allestire di tutto, dall'infermeria a un centro di puntamento e anche per il reparto delle trasmissioni dell'esercito, e qui lo so bene perché ho fatto il militare nelle trasmissioni, e venivano montati su un camion e dentro c'era la sezione di radio che faceva i collegamenti. Questo shelter, ne abbiamo costruito migliaia per tutto l'ONU, quindi è stata una commessa importante, lo facevano esclusivamente a Genova Sesti, nello stabilimento di Genova Sesti, ma è stato un altro punto di arrivo della meccanica Piaggia. Per tornare a questo, tanto per dire che non si costruiva solamente le cose aeronautiche e le coproduzioni. Allora si chiamano MRCA75, era il progetto iniziare del tornado, poi ogni nazione gli ha dato il nome che ha voluto, l'Italia ha scelto il tornado. Molto spesso i finalesi non si sono resi conto, io mi trovo come li sono resi conto, ma non si sono resi conto dell'importanza della Piaggio che è in finale, perché ricordo perfettamente un articolo di un giornalista, che tra l'altro lo posso anche dire, è stato anche il sindaco di finale, giornalista Cervone, che aveva scritto L'isola felice di Finale Ligure e qui eravamo negli anni 90, che scrisse questo articolo per dire che la Piaggio era una cosa importantissima a sostegno dell'industria, che purtroppo è l'unica che è rimasta minare, turistica. Il turismo era vivace, buono, intellettivo, però il vivere bene e la sicurezza dello stipendio del tutto era con la Piaggio. Ogni famiglia della Piaggio aveva perlomeno o uno o due persone, famiglia di Finale parlo sempre, ma anche delle zone limitrofe, aveva uno o due persone all'interno della Piaggio che bene o male portavano a casa uno stipendio, non sarà stato un'esagerazione, però era uno stipendio che permetteva di vivere all'onore del mondo, come si diceva negli anni passati. Io ero nel settore del commercio, quindi ero un po' a parte dalla questione, ma la cosa valida è che mi andavo a confrontare con dei colleghi delle altre ditte, specialmente a Legna, Macchi, etc., i quali restavano un po' sorpresi nel vedere che noi quando andavamo in una commissione eravamo tre persone, loro arrivavano in sei o sette, perché noi c'era un commerciale, che ero io normalmente, c'era un tecnico elettronico che era Pezzoli, credo che sia ancora in Piaggio adesso, anzi lui senza altro perché l'ho visto recentemente, e andava un tecnico dell'ufficio tecnico, proprio così, in tre persone e andavamo a discutere di tutto, ma siete solo un tre, perché? Uno vende, l'altro costruisce e l'altro ci dice com'è fatta tutta la storia, ed era tutto lì, e loro arrivavano in 5 o 6, questo che vuole dire è che ogni persona al tecnico del Piaggio aveva delle competenze, sì specifiche nel suo lavoro, però aveva l'occhio lungo, che gli piaceva, che gli veniva un posto che era così, sapeva anche mettere insieme diverse cose e essere responsabile di quello che faceva. Io faccio qui l'ultima affermazione, poi naturalmente chiudiamo, i dirigenti degli anni 80 e 90 erano dirigenti, erano tecnici veramente in gamba, sapevano disegnare, sapevano pensare, disegnare, risolvere i problemi, quelli che ho avuto, dico il piacere, ma non è preciso, nell'ultimo periodo, io non ho visto dei tecnici così validi, ho visto delle persone con tante parole, tanta bramosia di essere in gamba, ma di non esserlo, perché se non risolvi i problemi dentro l'industria lunatico, ma in tutte le industrie non vai avanti. Il mio pensiero è che c'è stato un decadimento di quella personalità, di quell'attaccamento alla ditta che portava a essere in gamba, anche se non lo so chi era, come è stato scritto dal gronde.